Presentati questa mattina, nella sede di Pescara del Consiglio regionale, gli eventi che saranno al centro della due giorni dedicata all'Europa. Il Le Forum è in programma nel capoluogo Adriatico nei giorni 21 e 22 settembre, in occasione del quale si affronteranno temi legati alle opportunità di sviluppo economico che le regioni hanno in questo momento di crisi finanziaria. L'iniziativa è organizzata dal Comitato delle Regioni e dall'ARE, cioè l'Assemblea delle Regioni d'Europa, di cui è Vicepresidente Gianni Chiodi. Questa iniziativa, denominata l'Abruzzo e in Europa, è in linea con i progetti già avviati nei mesi scorsi dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, come ha sottolineato il Presidente Nazario Pagano. È importantissimo che avvengano queste due assemblee del Comitato delle Regioni e dell'Assemblea delle Regioni, che vede il Presidente Chiodi Vicepresidente. Parteciperò ovviamente anche io, come qualità di Vicepresidente della CADRE, cioè della Conferenza di Assemblea Legislativa d'Europa. È un'ulteriore opportunità straordinaria di uscire fuori da un cono di invisibilità che noi purtroppo scontavamo a livello europeo. Oggi, finalmente, per questa attività di grande diplomazia che è avvenuta in questi due anni, l'anno scorso, con la mia Presidenza e quest'anno con la Vicepresidenza del Presidente Chiodi, finalmente l'Abruzzo continua ad essere una delle regioni protagoniste nel palcoscenico europeo ed è certamente un'occasione che produrrà degli effetti positivi, sia per quanto riguarda l'accesso ai contributi europei, sia perché facciamo conoscere meglio il nostro territorio delle straordinarie potenzialità e ricchezze che sono del tutto sconosciute all'estero. Confronto e anche apprendimento delle best practice a livello comunitario? Non c'è dubbio, anche perché si è cercato di spiegare di come in realtà noi passiamo da una fase nella quale il principio di sussidiarietà, cioè maggiori poteri ai territori, alle regioni, in questa fase di crisi economica e finanziaria purtroppo si è tornati indietro con un neocentralismo degli stati, però è chiaro che, come diceva lei, le buone pratiche saranno fondamentali per avere un ruolo subito dopo la crisi economica, ecco perché noi in un certo qual modo stiamo investendo sul futuro. Grazie a tutti.